Quindi il Napoli vince, l'Atalanta stravince e l'Inter che fa? Potrebbe stravincere, invece si accontenta di complicarsi la vita e di vincere semplicemente, anzi in maniera abbastanza complicata negli ultimi minuti contro un Torino in inferiorità numerica con Zapata, un grande in bocca al lupo che esce in barella e con la partita in equilibrio di fatto nel risultato, anche se non nel gioco, perché l'Inter ha dominato e sembrava di vedere come martedì c'era stata la stella rossa, a San Siro c'è stata la stella granata, sì perché chiamarlo Torino con quella maglia ci vuole un po' di fantasia, hanno spiegato i geni del marketing che si tratta di un colore pesca che è il colore del 2024, la maglia è un inedito, molto originale, diciamo che è una maglia da collezionisti, chiamiamolo anziché Toro, stella granata, che così magari è più aderente a questa particolare maglia, che comunque, vabbè, siccome è un'operazione di marketing, prima di bocciarla oppure di deriderla, sarà anche bene il caso di vedere quanti soldi frutterà la società di Urbano Cairo, che di soldi ne ha fatti e probabilmente ne dovrà spendere, anche se speriamo che l'infortunio di Zapata non sia grave come purtroppo sembra. Tornando all'Inter, ricominciando con l'Inter, non si può che applaudire ancora una volta Turam, che nel giro di poche ore risponde ai tre gol di Retegui, con altri tre gol erano capocannonieri entrambi insieme a Vlaovic e Pulisic e vanno dunque con un balzo. Un salto triplo in avanti, in attesa delle risposte dello Juventino e di un qualsiasi attaccante della Milan, sono delle belle sorprese. Anzi, Turam non è una sorpresa, è un giocatore che l'anno scorso si era affermato con una potenza e una prepotenza e un'autorevolezza, che erano soprattutto rivolte ai compagni, cioè un campione di altruismo. Stavolta è invece un giocatore, un grande attaccante, che riesce a trasformare in gol a tutte le occasioni, non ha bisogno di essere generoso, sta seguendo un percorso di crescita, è indubbiamente un giocatore sicurissimo per l'Inter, che può vantare come alternativa Taremi, che è raffinatissimo e si è visto in Champions League, ma che resta spesso a guardare la coppia titolare, in cui c'è un giocatore che è un po' in difficoltà. Ora, è chiaro che parlare dopo una vittoria dell'Inter dei giocatori in difficoltà, chi è magari interista, come dire, ortodosso e fanatico, dice ma come fai a parlare di un giocatore in difficoltà quando l'Inter vince, ha vinto 4-0 contro la Stella Rossa, poi ha vinto contro il Toro, sì, fino alla fine ha lottato, però insomma ha vinto e tu parli di Lautaro? Sì, perché i numeri dicono che Lautaro non è quello dell'anno scorso, quando aveva già impostato la vittoria di questi tempi per la classifica a marcatori e invece stavolta trova qualche difficoltà. Io credo che non ci sia da preoccuparsi per Lautaro, però lo dico molto sinceramente e semplicemente perché gli attaccanti non vanno considerati a seconda del momento di forma oppure della partita che prende una piega oppure un'altra, va in una direzione oppure un'altra, ma gli attaccanti vanno più di tutti gli altri considerati per il loro valore. Lautaro è uno che vale, i gol che non ha trovato finora li troverà da ora in poi, anche se è naturale che qualche piccola sensazione così di come ci fosse un granello di sabbia nell'ingranaggio, nel meccanismo, magari ce l'ha anche perché gli attaccanti sono un qualcosa a parte, gli attaccanti che non segnano, poi ci pensano tutto il giorno. Quindi Lautaro sono sicuro che ci penserà tutto il giorno, gli farà bene dormire qualche ora sul volo che lo porterà in Sud America per le partite della nazionale argentina. Il resto dell'Inter com'è? In un contesto di prestazione comunque nettamente superiore al Torino e con una vittoria che alla fine a dispetto del risultato è stata agevole, perché è stata una vittoria, a veder la partita non è mai stata in discussione la vittoria dell'Inter. Poi è chiaro che ci sono stati i due gol del Toro, c'è stato qualche minuto alla fine che il risultato era in bilico, però l'Inter ha giocato, ha giocato la sua partita, tra l'altro devo dire che l'Inter ha superato brillantemente una settimana che poteva anche provocare un cortocircuito, invece per via dell'indagine, dell'inchiesta, degli arresti del caso dei capi Ultras, invece l'Inter è stata brava. Bisogna dire che è stata molto brava a livello società, allenatore e squadra a non portare in campo tutte quelle brutte cose che scendevano giù dai racconti della curva che era in mano ad alcuni malavitosi, a un'organizzazione malavitosa, quindi i veri tifosi non erano quelli che sono stati allontanati. Dico una banalità, anche perché poi emergono dalle intercettazioni telefoniche anche particolari, abbastanza ridicoli, non tutti quelli che sono stati arrestati, dei capi Ultras erano poi riconducibili proprio alle origini del tifo interista. Ma poteva essere una situazione complicata, la squadra poteva risentirne, invece è stato bravo il pubblico a non far sentire l'assenza di gente che lo faceva soltanto per lavoro e soltanto per guadagnare centinaia di migliaia di euro a partita e milioni alla fine di una stagione. Ma bravi società a isolare la squadra e l'allenatore anche, che potevano essere in qualche modo condizionati. A proposito di allenatore, sì, le pagelle dell'Inter, guardate, sono tutti giocatori sopra la sufficienza, perfino Cialanoglu, sì, commette il fallo da rigore, ma comunque a capo di una partita molto buona, la difesa ha qualche incertezza in più. Rispetto all'anno scorso la difesa si distrae molto di più, è dalla prima giornata che è così, contro il Genoa. Tra l'altro il Genoa che pareggia la prima giornata, considerato come si sta disintegrando il Genoa potrebbe essere un grosso rimpianto per l'Inter, però dicevo che la difesa non è più attenta come l'anno scorso e questo è evidente, lo dicono i numeri, come dicono i numeri di Lautaro che non sta segnando più come l'anno scorso, però l'attenzione si recupera e il valore del giocatore resta, ecco perché dico che gli interisti devono comunque considerare in maniera positiva questa situazione. A proposito all'allenatore, dicevo, poteva esserci un clamoroso dissing con Antonio Conte che dicendo hai voluto la bicicletta adesso pedala, però Tiago Motta si è subito scansato dal dissing, ha detto che non si riferiva a me, quindi resta un po' sospeso, Inzaghi non risponde perché non sembrava che Antonio Conte se la fosse presa con l'allenatore dell'Inter, Gasperini invece si è lamentato del mercato dell'Atalanta, entrando dunque nel club degli allenatori che non sono mai contenti e così si va avanti, si va avanti con un campionato che arriva alla sosta con le posizioni che tutti immaginavamo durante l'estate, c'è il Napoli che sta facendo qualcosa di più di quello che si poteva immaginare anche dopo la prima partita contro il Verona, quella clamorosa sconfitta, c'è l'Inter che sta facendo qualcosa di meno rispetto a quello che si poteva immaginare, c'è una Juventus alterna ma che comunque offre fiammate che alimentano le speranze e i sogni dei tifosi bianconeri, c'è un Milan ancora da scoprire ma che comunque sembra potersi riassestare e c'è l'Atalanta che vedrete prima o poi ritornerà a ridosso delle prime quattro, tutto come previsto, tutto come previsto, fin troppo come dire prevedibile, sì, però attenzione perché veniamo da due campionati in cui il Napoli aveva fatto una fuga e nessuno ne aveva più visto, l'Inter è andato in fuga e nessuno ne aveva più visto, sembravano poche, c'erano il ciclismo che vince Giro Tour Mondiale, Giro delle Mille e anche vince sempre, ecco stavolta io credo di no, stavolta ci sarà una soluzione allo sprint, in questo sprint però questo si può dire, vedendo l'Inter come gioca ma nel valore dei giocatori, ecco l'Inter c'è, anche a capo di una partita per certi versi bella ma per altri assurda, sofferta in equilibrio fino agli ultimi minuti con il Torino.